Sì, durante la fine settimana passata, la notificazione è arrivata al nostro despaccio, come Ministro di Laborato, che sono stati di 150 persone che lo guardano a ritirare. E si fanno subito, arriva già domingo, poi vedo 200, ma so meno, andiamo a buscare un contatto di via, che è il personale di Human Resources, il direttore di Human Resources di Red Scalton. E l'informazione è stata scritta, come abbiamo detto, che la totalità è stata di 60 persone, che ci sono stati di 60 persone con una messa a resignare, come con una messa a entregar il contratto, 10 anni e 44 sono stati con una continuazione del contratto di Red Scalton, che ci sono stati di comprendere, perché non è una pratica uscuale, ma è stata di un periodo di proof date nel momento. Forse il 22 novembre, l'estabilità è stata di investimento, a Haber Sport, in Anaruba, dopo il passato di un processo di selezione di maggiori persone, di circa 5 o meno persone, ora tomano il servizio, è stata di un periodo di proof date di due luni, che è stato logico, sì, che in un periodo, in un periodo iniziale, un paio di persone lo cagano fuori dalla selezione, dopo di due luni, dopo di tre luni, è stata di una stabilizzazione di persone che lavorano nella Red Scalton, per il motivo che il hobby viaggio è una cultura di Red Scalton, è stata distinta da un altro hotel, e il standard che la Red Scalton ha exigito di Soutra Haddon è magari un po' più alto, con il distinto da un altro hotel, e è stata che automaticamente ha come conseguenza con un gruppo, magari nel inizio, più grande di un gruppo. Poco a poco, durante il lunio l'anno seguente, è stata di una conferenza di Red Scalton, e la quantità di persone che sono vaste, lo sta stabilizzando, quindi, dopo di un proof date, è ora di un servizio. che si accade, è stata di un momento, in questo periodo di proof date, di due luni, però, lo che mi chiede, è molto importante, è che noi chiediamo a monitorare la situazione, particolarmente nella Red Scalton, mi sono molto contento di avere buona comunicazione anche con il presidente del sindicato, il signor Diego de Cuba, che ci chiediamo a monitorare, che ci chiediamo a monitorare la situazione con il sindicato, per altri aspetti, però, specificamente, nel caso di Red Scalton, il signor di Cuba, junto con il mio despaccio, è stato di monitorare la situazione qui, per il motivo, che il bucchier, che è traggone, è confortabile, non c'è un inquietud, come andano per ora che sta, nel momento non ha anche il nostro piano di Approved Aid.